Tre vittime in provincia di Chieti in seguito a un'esplosione in uno stabilimento specializzato nel trattamento di ordigni bellici. L'entità della deflagrazione aveva fatto temere un bilancio ancora peggiore. Bloccati per ore il transito ferroviario e la statale 16 Adriatica. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì alla esplodenti Sabino di Casalbordino, azienda che recupera e tratta polvere pirica derivata da bonifiche di ordigni bellici. La procura di Vasto ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto. L'azienda non è nuova a episodi di questo genere. Un operaio aveva già perso la vita e altri quattro erano rimasti feriti in tre distinti episodi avvenuti tra l'inizio degli anni 90 e il 2015 anche in un altro stabilimento.